Il Ministro per la Cultura Popolare, Sua Eccellenza Alfieri, inaugura nel nuovo Palazzo del Cinema a Lido la quinta mostra internazionale d'arte cinematografica. Presenti le loro altezze reali il Duca di Genova e il Principe Cristoforo di Grecia, il Prefetto, il Presidente della Biennale, il Direttore Generale della Cinematografia, il Presidente dell'Istituto Luce dell'ENIC, le rappresentanze governative delle 16 nazioni partecipanti alla mostra, numerose altre personalità e invitati. La folla delle grandi occasioni si è data convegno per la presentazione dei condottieri di Trenker, l'applauditissimo film che onora la risorta cinematografia italiana. Grazie a tutti!